Il cinema d'autore arriva a Napoli direttamente dalla Biennale di Venezia. La seconda edizione della rassegna Venezia a Napoli si svolgerà dal 9 al 14 ottobre in nove sale del territorio cittadino, da Fuorigrotta a Piscinola, e presenterà una selezione di film dell'edizione 2012 della Biennale, puntando soprattutto sui lavori di qualità generalmente trascurati dalla grande distribuzione. Un evento che lo scorso anno conquistò un gran numero di spettatori, costringendo pure l'organizzazione a proiezioni straordinarie, come nel caso del Faust di Sokurof Leone d'Oro 2011. Venezia a Napoli ritorna dopo la partecipazione e l'entusiasmo dell'anno scorso dei tanti che in ogni luogo del festival partecipavano alle serate. Quest'anno torna con lo stesso concetto di cinema esteso. La città non ha attualmente una sala dove si vede il cinema alternativo, col cinema cult e il fatto che tutti gli esponenti delle sale si siano resi partecipi di questa iniziativa è molto interessante anche per questo. La rassegna è un'occasione preziosa per apprezzare lavori cinematografici che altrimenti non arriverebbero nelle sale cittadine. Tra i momenti più attesi, la proiezione del film vincitore del Leone d'Oro 2012, Pietà, di Kim Ki-duk, martedì 9 all'Astra di Via Mezzocannone, l'incontro con Daniele Cipri, autore di È stato il figlio, giovedì 11 al Pierrot di Ponticelli, e l'omaggio al disegnatore Simone Massi, sabato 13 al Modernissimo, con una selezione di corti animati curata da Comic-Con. A partire da questa rassegna nelle scuole di Scampia, nelle scuole superiori con cui ho già attivato delle collaborazioni, faremo una rassegna che sarà dedicata al mondo dei giovani e molti dei film di questa rassegna, tra cui anche l'intervallo di Leonardo Di Costanzo che bene bene si è apprezzato a Venezia e sta girando il mondo in Bari Festival, è un film che parla di giovani, del modo con cui noi adulti dobbiamo ascoltare i giovani e essere capaci di capire il loro pensiero ed eventualmente interpretarlo per costruire il futuro. Venezia a Napoli è un'iniziativa basata sulla collaborazione istituzionale fra il Comune di Napoli, la Mostra del Cinema di Venezia, il Ministero dei Beni Culturali e l'Università Federico II e sarà realizzata grazie alle energie di diverse associazioni territoriali e ad un vivace volontariato culturale. L'ingresso alle proiezioni avrà un prezzo simbolico di 2 euro. Io ritengo che sia una cosa estremamente importante per almeno due motivi, uno perché comincia a mostrare integrazione fra le diverse istituzioni, due perché secondo me noi dobbiamo assolutamente superare il vecchio criterio per cui all'università si insegnano tecnicismi eccetera eccetera e non si capisce che bisogna andare oltre questi steccati generali.